ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi vi farò vedere come scaricare e installare il pacchetto jackstrike per element 3d prima però vi ricordo che questo vuole essere solo un video dimostrativo scaricare e installare programmi cracati non è legale quindi guardateci voi l'utilizzo che fate con questo tutorial io vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora andiamo a vedere appunto come installare jackstrike innanzitutto andate nel link che vi ho lasciato in descrizione scaricate il file che appunto sarà questo qua in formato zip lo andate ad aprire all'interno come vedete troviamo l'installer.dmg quindi facciamo doppio clic nel caso vi chieda se volete aprirlo perché da uno sviluppatore sconosciuto mettete sì dopo di che vi apre l'altro installer facciamo doppio clic anche qui come vedete anche qua mi chiede in questo caso un'app scaricata da internet confermi di volerla aprire facciamo apri ci aprirà appunto questo installer e noi non facciamo altro che fare next next finché non installa il pacchetto io non lo faccio perché comunque ce l'ho già installato una volta finito vi dirà lui appunto di cliccare sul tasto finish che sarà qua in basso e adesso io cancello se noi adesso andiamo a aprire il nostro after effect andiamo a fare una nuova composizione facciamo ok faccio nuova tinta unita ok vado a prendere videocopilot element se noi andiamo su scene setup come vedete qua di fianco abbiamo la cartella jack strike con all'interno praticamente i nostri aerei alcuni operatori eccetera quindi ci basterà importarli qua ora vado a cambiare il tipo di luce in modo che si veda meglio vado anche a togliere la griglia e questo praticamente sono i nostri aerei se ne sono 54 compresi di due operatori si c'è un operatore che è un pilota comunque qui di fianco avete appunto tutto quello che riguarda il pacchetto jack strike un altro appunto sui dispositivi nuovi m1 purtroppo l'installer non funziona non ho avuto modo di provarlo su big sure non m1 ma col processore intel quindi nel caso provatelo io l'ho provato su after effect 2020 e funziona l'ho installato vabbè io adesso su questo portatile ho ancora catalina quindi qua sono riuscito a installarlo ma sul mio fisso appunto con big sure il dispositivo appunto m1 non apro l'installer quindi tenete conto di questa cosa magari sapetemi sul dire se con big sure su processori intel vi apro l'installer però del resto vi avverto che sugli m1 purtroppo non funziona questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial io vi ringrazio di avermi seguito vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto lasciate un like al video se vi è piaciuto commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti